Il lavoro è un diritto e l'appello lanciato dal comitato di soccopati riunitosi questa mattina nei pressi del comune. La richiesta è di avere un incontro con l'amministrazione comunale al fine di immaginare percorsi lavorativi sul territorio, a cominciare delle attività di manutenzione e spazzamento. C'è scritto stesso qua, il lavoro penso che è un diritto, come è un diritto per me, è un diritto pure per gli altri, però non è un diritto per chi supera la soglia. Pensiamo prima a quelli che stanno proprio a terra, poi se rimane qualcosa penso io, come sia giusto, completiamo la casa di Ponte Cagnano, poi se rimane qualche altra cosa penso io, possiamo pensare pure agli altri, pure che hanno un po' di reddito, però pensiamo prima ai figli che hanno bisogno di mangiare.